Salve a tutti i video di oggi! Da quanto tempo? Molto! E' da un mese che non faccio video e ora vi spiego perché sono stato in Sicilia per tipo un mese e non ho potuto fare video per questo oggi ne porterò i video iniziando da una potente bevuta molto potente e gloriosa la potente bevuta di Monster 7 L'ultima guarda qua è tutta bagnata l'ultima che ho fatto è la 6 della Monster ovviamente io non bevo Monster da più o meno quel periodo quindi molto tempo fa ora è molto bagnata la Monster perché l'ho tolta all'Africa qualche minuto fa così potrò preparare le mie corde vocali all'assorbimento di acqua minerale allora la Monster aveva sempre amata soprattutto per la sua la sua lattina color nero verde eh sì questo è il mio colore il mio il mio gusto preferito di Monster nell'assoluto dentro l'assoluto liberando il campo da bevuta buono e mentre faccio lo spiccio e dopo lo spiccio vi spiego la differenza tra bevuta e degustazione allora lo lasciate in frigo per più di 3 mesi non mi può deludere ma madonna l'odore dio che dico dovrei spegnere le luci perché dà molto che non l'assaggio però lasciamo così ok l'odore come sempre va via quasi sempre e lo spizzo spizzo vergognoso vediamo il colore che più o meno ricorda vabbè il colore è la cosa più facile da ricordare alla fine prima di te la potente bevuta mi bevo un bicchiere intero di del liquidino mentre nella potente degustazione lo assorbo lentamente il liquido tramite la mia cavità orale e non riempio il bicchiere dentro al pieno ora me lo avvicinerei con cauta con cauta con cauta che con 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 calma buono io di solito vado a circa un dito di distanza dal bordo dal bordo strabordiamo strabordiamo che a noi piace strabordare allora per bere tutto in meno è impossibile questa è la bevuta degustazione dichiaro i miei sentimenti verso il liquidino lo odore è veramente veramente messa di uva verde 3 preparo la mia cavità orale la mia trachea e il mio come si chiama il panetto di burro 3 2 1 è una frezantina meno meno male che non che l'ho tirata fuori un po' prima o se non era troppo ghiacciata e morivo di questa è la potente degustazione di di monster classic la mia la patina quella lì non so se vi ricordate la patina che ho detto negli scorsi video prende bevendo tipo monster una patinina che ho riuscito a parlare si è aperta la porta io di solito la ribevuta non do il voto però sta leggermente più dolce del solito tra l'altro è l'ultima cioè questa è l'ultima monster che ho nel frigo ma come faccio li vado a comprare e abbiamo la prossima degustazione più potente di questa si perché sarà più potente di questa ma madonna mi ha colpito nel 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 ciao no scherzo sto cercando il vocablo di prima ancora mi ha colpito nell'interno nel profondo dai io continuo a degustare le monster noi ci vediamo ad un prossimo video buona serata